169 milioni di euro per gli ospedali campani e quanto è stato stanziato nell'ambito del piano di rientro dal commissario alla sanità Vincenzo De Luca. Gli interventi rientrano in un piano triennale 2017-2020. Le prime opere interesseranno cinque ospedali salernitani. A Nocera, Oliveto Citra, Battipaia ed Eboli si affianca Rocca d'Aspide. Nel comune cilentano l'intervento riguarderà per circa un milione di euro il completamento delle opere a servizio del pronto soccorso, l'ammodernamento degli impianti e l'adeguamento della struttura per la quale è prevista la trasformazione in ospedale di comunità con 20 posti letto di medicina generale. La seconda fase interesserà invece Vallo della Lucania. Il San Luca infatti sarà soggetto ad opere per la copertura delle sale operatorie che solo pochi giorni fa furono interessate da interventi di manutenzione straordinaria per infiltrazioni d'acqua, l'acquisto di attrezzature da tempo richieste, la sistemazione del reparto di ostetricia e ginecologia ed infine l'adeguamento degli impianti. Fuori dai finanziamenti Agropoli, Polla e Sapri. Per quanto riguarda il comune del Cilento Costiero, le opere necessarie all'adeguamento della struttura, alla sua nuova funzione di ospedale di comunità furono già realizzate lo scorso anno. Tuttavia ci si aspettavano ulteriori interventi per la riapertura delle sale operatorie come promesso in passato dal governatore De Luca. Nessun intervento neanche a Sapri dove da tempo invece le istituzioni e le associazioni chiedevano lavori di adeguamento della struttura, di alcuni reparti e del pronto soccorso.